a tutti i piccoli dico ma c'è stato mio a ragazzi è venuto eccolo qua ecco la stacola che si è connesso se ti va via il server rau che stiamo aiuto ma chi è che mi ha ucciso aiuto rauld non si è venuto aiuto aiuto rauld armi per me serve ragazzi aiuto e lo scheletro sarebbe la mia unitario non ci riesco che ti fa addio mi vado a riparare aiuto ciao ciao se il treno vediamo che mi vado a parare il caso di me il caso di me che sono amici non mi ha fatto ciò che vieni qua perchè sto facendo un'altra un'altra mani che palle dai a me vero a crescendo dai tu costi o la pari da europa sono da iniziata a casa il valore della turma prestali asia che l'arturo per il vento ragazzo ok la gabia o penso di fare questa serie perchè a stare sotto tempo il so che sono cinese però no no smarrà ecco la prassette cittadino rettorsi sono ok ragazzi cominciamo a fare la casa vera progetti coso chiedo al che io faccio in cittadini per se non la facciamo io direi di farle per esempio qua qua si fa che lì ci sta parlando la cosa che sopra qui sopra si non è che si guarda no 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 perchè se no poi dovete cura roba facciamo guarda guarda per il tuo caso che c'è scritto ha detto di non toccare qua perchè c'è una cosa per il teletrasporto vi siete presi tutti i ragazzi vabbè ragazzi io la comincio qui ragazzo guarda qua oh allora quanti minuti siamo ci va vede e la becora che sono affatto sono tre minuti sono passati tre minuti ma abbiamo soltanto la paghera che ha fatto o il cane che cazzo no i cani per l'arri che ora è mazzurri al canne va a mazzare per un perfetto mai ci vuol fare l'architetto per il cazzo di caldo appoglietti di legno alla casa che cosa stai affatto ma ma riuscì la cosa che fai i ragazzi da un tempo con una buone del merda o cansa di niente fa roba a ma perché sono intelligenti sono secchio non so ma che cazzo fa la casa insieme è una casa che non possiamo io la mia casa fatta da solo ma che non è un gioco non è non stiamo cazzeggiando collaborazione è una stanza per la collaborazione se cosa vuoi dire ma guardate quanto sono guardate quanto sono più guardate quanto sono più attivare pvp perchè dynamic mi ammazza in due colpi ma adesso vediamo perché lui non si sa cosa fa ah beh questo qui possiamo anche lasciare per le ceste no ma che avete avuto dentro uno e oddio un creeper aiuto la morta sta a fare tutte le gà dobbiamo fare i letti dobbiamo fare da ho preso la spada d'oro che pesi in grande che presi di culo no vabbè quella giara no per noi ci si tratta la patate patate un po' tutto da me la parola si pianta schiena la carota la poi la carota ma questa c'è una scia o c'è una bella parola questo zombie da merda dove dove se vai da non è la carota la patata perché pianto ma l'abbè e non è presente con l'altra marco non quella patata che intendete e non quella carota che intendete la parola la parola la parola la parola sicure di una ragazza e sicuramente il tempo nella moda però ora mi serve quel catata pixelosi di maio aiutare cazzo chi chiama pronto spettacolo per l'attività di una volta la mia porta per morire o che la nostra data aspetto fuoco state del buon mia un'esercizio le per le mazzate che si prende sto morento lento ma io l'ho già ammattati 5 son colline semplicemente chiesto scherzo ma secondo voi ah che so caduta mi chiami spiegare una cosa come si fa ad arrivare dell'auto ho scomento che ci sono le cose per trasportarsi qui ci dovrebbe essere una cosa per trasporto spaccato legna quale legno? sì questo spaccolo pure tanto ma chi chi mi vuole essere vedo pure a fare la casa abbiamo come dire che si stesse era proprio noiosa noiosa non io se non io se non io se non io se che ci senti la mia puntata va bene regalata di più che va fatta e tagliamo qualche pezzo no? sì se la facciamo il primo modo di venti facciamo davanti tanto staglio un po' di pezzetti eh scusate io non vorrei dormire insomma 3 games non ho capito che ragazzo per il nome sul vento guarda ora ci dobbiamo fare i letti una missione ma chi che sto usando due tipi di linee diversi ci abbiamo un legno e la legna qui non c'è abbastanza non c'è ti aiuto io dai spaccato dobbiamo spaccato qui ok anche per impiantare albero ragazzo ragazzi dobbiamo dobbiamo darci dei compiti da fare c'è non è che possiamo fare tutta la stessa roba e non fatti niente perchè c'è niente server ma per la sanità o che fai qualcosa pure niente ma qui no me la trovo non me la vuole trovare non mi vuole trovare qualcosa no ah ecco no ce lo ce l'ho già piantato 1 qualcuno va a provare a trovare dei scheletri che cazzo ne so no dai sera ho diventato io non c'ho la spada è mattina ma non c'è no ragazzi vabbè non c'avevo uno che cacchio mai vuoi ricavere dal legno e vedite un attimo mi ha finito da subito ah dobbiamo fare pure un ufo ma guarda che casa strana va troppo ecco chi ti diamo non dalle banche io cduo non sono così vabbè poi si sostituiscono vittorio vittorio sugo ciao ora che adesso legno ok 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 oh possiamo. angeli ad parte le MERCY quindi anche i ragazzi obiettivo anche i stati dice chi è chi la piazza che siamo a casa stiardi tanto se per nome dopo prima piccola c'è o prende anche se un cli per cli per cli per il mazzoglio acqua il bianco il bianco mazzato mazzato voler da sparo quando ci sono gli occhi di per il volo stai da mi chiesa di milan la sua o secondo me di grande buco ragazzi si fa quelle isola prossimo episodio così al meno prendiamo le mucche specchio barman scurrò sul luogo al piccolo con la casa con il portiamo finiamo la casa e poi finiamo il video buoni io non lo capisco a questo ok basta oh mio addio ma guarda un po' dobbiamo aspettare ok basta con la terza nessuno li frega cosa ok c'è specialmente a un passo a farla e racchetti spaccato un pezzo di quelli per cui non arrivano i modi possiamo quasi a un letto però dobbiamo avere il lavoro chi per chi per te non è che va di levati ok 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 ragazzi direi di farmi una suicidazione i figli assoluti che metti tutta la roba successo per fatti e per forza c'ho un cuore e un mezzo di cazzo ok si direi di finire la prima parte qua non la mia diretti finire la prima parte con i miei suicidi ok ciao ragazzi si è la prima parte aspettate si prego ti prego nooo oh no oh no oh no oh no ciao tutti ragazzi si finiamo la partita qua c'è partita l'episodio qua o c'è un enderman dentro la casa misterio mistero ok vi lascio questo mistero